226 nuovi casi di contagio la regione riapre il covid hospital di civita nova ruba 8 mila euro dalla cassa dell'autogrill scoperto dalla polizia un dipendente infedele turismo gli albergatori pesaresi reclamano investimenti e riqualificazioni motori e sentimento animalista continuano le missioni di giacomo lucchetti buona serata eccoci al telegiornale di mercoledì 21 ottobre come sempre l'informazione su Rossini TV come avete sentito dal sommario questa sera apriamo il nostro telegiornale parlando del sostanzioso aumento dei casi di coronavirus al quale la regione Marche risponde con misure di potenziamento sanitario che vi illustriamo proprio in questo primo servizio 226 nuovi contagi da coronavirus in regione nelle ultime 24 ore le Marche si sono svegliate oggi con un nuovo picco di casi di covid-19 perché un dato così sostenuto non si riscontrava dal 21 marzo ovvero dal pieno periodo di lockdown di esattamente sette mesi fa una cifra che si colloca come il quarto più alto dato registrato da inizio pandemia un dato inquietante ed è una preoccupazione che viene solo parzialmente lenita dall'alto numero di tamponi 2540 cioè una delle più alte rilevazioni effettuate dal servizio sanitario regionale in tutto il periodo pandemico positivo al covid dunque il 15,2 per cento dei tamponi processati un dato superiore ai giorni scorsi in cui si era andati sotto al 10 per cento dopo gli 89 casi registrati ieri è la seconda volta in pochi giorni che si superano i 200 casi di crescita nell'arco di 24 ore su 226 contagiati solo 21 sarebbero però quelli che presentano sintomi tutti gli altri sono asintomatici e questo spiega come nonostante i numeri sostenuti l'impatto sia ben diverso in termini di ospedalizzazione rispetto ai drammatici momenti di febbraio, marzo e aprile fra i 226 contagiati di oggi la provincia di Pesorobino resta la meno colpita con 26 casi se ne registrano invece ben 67 nella provincia di Ascoli Piceno 53 a Macerata, 36 ad Ancona, 36 a Fermo mentre 8 sono i casi rilevati fuori regione e questa mattina presso la sede della giunta regionale il nuovo assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha illustrato l'adozione di nuove misure di contenimento regionale dell'epidemia a cominciare dalla riapertura del Covid Hospital di Civitanova il Covid di Civitanova verrà riaperto in un primo modulo con 14 posti stanno già lavorando e penso che una giornata di domani o dopo domani sarà immediatamente operativa questa misura si rende necessaria perché abbiamo un numero di posti di terapia intensiva sotto soglia rispetto alle misure che dovevano essere adottate quindi c'è l'urgenza di intervenire per far sì che eventuali ricoveri in terapia intensiva possano essere adeguatamente protetti c'è un'urgenza incredibile per l'assunzione di personale che non si trova dovendo aprire il Covid Hospital almeno nella prima fase lo ripeto, un primo modulo di 14 posti di terapia semi-intensiva abbiamo bisogno di nuovo personale medico per non sguardire i servizi necessari alla sanità ordinaria degli ospedali alla cura delle malattie oncologiche, per esempio, piuttosto che alla chirurgia e quindi abbiamo, il Presidente Acquaroli ha già inviato una lettera al Ministro della Sanità per chiedere l'invio della sanità militare, in particolare della Marina e anche degli infermieri le novità per i tamponi è che abbiamo raddoppiato la dotazione dei tamponi il problema è che la Regione con il suo personale ne processa solamente 2200 la domanda è molto più alta quindi abbiamo chiesto ai farmacisti e ai medici di famiglia di operare in questo senso nei prossimi giorni ci vedremo e con il loro aiuto concluderemo anche questo accordo allargando la platea dei tamponi e anche ai bambini che devono rientrare a scuola e a tutte le categorie a rischio, compreso il personale sanitario e delle forze di polizia Poi c'è il capitolo vaccini Il capitolo vaccini a Regione aveva ordinato 4200, noi abbiamo raddoppiato la dotazione a 8300 e quindi anche in questo caso ci servono i medici di famiglia per un accordo per raddoppiare questo tipo di misure di prevenzione Abbiamo dato indicazione della direttiva di convocare immediatamente al Servizio Sanità i sindacati della categoria dei medici perché riteniamo profondamente ingiusto che non siano liquidate le somme relative al rischio sono somme tutto sommato anche irrisorie spero che con il loro aiuto l'amministrazione regionale, la Giunta, il Presidente Acqueroli sia impegnato a liquidare immediatamente questa partita perché penso che chi rischia la vita, chi si impegna tanto lo voglio sottolineare il ringraziamento mio, del Presidente Acqueroli della Giunta verso l'abnegazione e l'altissima professionalità del personale medico però tutte queste belle parole devono essere riconosciute anche con le misure retributive, remunerative che non si capisce per quale ragione sono state bloccate da mesi Noi la prossima settimana con il concorso dei sindacati intendiamo concludere e liquidare questi trattamenti al personale che meritoriamente si sta impegnando sulla linea di una guerra contro un nemico davvero pericoloso e mortale Ed ora passiamo alla cronaca perché la Polizia del reparto autostradale di Fano ha smascherato un dipendente dell'area di servizio Metauro Ovest che rubava ripetutamente denaro dalle casse dell'autogrill sulla 14 Si tratta di un cinquantenne abruzzese che ha sottratto ben 8 mila euro e che è stato scoperto dalle indagini sollecitate dalla dirigenza dell'area di servizio che ha notato i continui ammanchi di denaro Sono così partiti controlli straordinari della vigilanza privata e domenica, dopo aver notato l'ennesimo ammanco, è scattata la chiamata alla Polizia I sospetti sono ricaduti sul cinquantenne, unico collaboratore in possesso delle chiavi della cassaforte Messo alle strette, l'uomo ha indicato un nascondiglio in un attiguo magazzino di stoccaggio dove sono stati trovati 7 mila euro divisi in otto buste È stata definita l'assemblea più importante della storia dell'APA Così il presidente appunto degli albergatori pesaresi, Fabrizio Oliva, ha definito questo confronto fra i soggetti del turismo pesarese che si è tenuto ieri all'hotel Alexander Museum Palace in cerca proprio di strategie di rilancio dopo la pandemia Albergatori, ma anche bagnini, commercianti e agenzie di viaggio Insomma, la pesaro del turismo ascoltata dalla politica locale All'hotel Alexander Museum Palace di Viale Trieste l'assemblea dell'APA, associazione pesarese albergatori ha acceso il megafono sullo stato di sofferenza di tutti i comparti del settore turistico pesarese che ha appena mandato in archivio una stagione estiva con consistenti cali del fatturato con hotel a rischio e chiusura e con prospettive molto nebulose per l'anno 2021 Siamo qua ad una riunione importantissima dell'associazione albergatori forse una delle più importanti nella storia degli albergatori proprio per il momento particolare che il turismo sta vivendo A questa riunione abbiamo invitato anche i rappresentanti delle altre categorie bagnini, ristoratori, commercianti, guidi turisti, agenzie e viaggi perché riteniamo che siamo il settore, a partire dagli alberghi, il più colpito Al Comune cosa chiediamo? Chiediamo di essere vicini alle nostre istanze di concertare una serie di politiche anche tarifarie con noi soprattutto riferite ai tributi chiediamo di fare degli interventi anche per il prossimo anno sul lungomare di arredo urbano e chiediamo che la tassa di soggiorno venga esclusivamente spesa per il turismo Oggi alla nostra assemblea, in via del tutto eccezionale sono presenti tutte le forze politiche e tutte le forze istituzionali di minoranza e di maggioranza sia della Regione sia del Comune di Pesaro perché riteniamo che una battaglia come questa e un superamento di una crisi come questa debba coinvolgere minoranza e maggioranza e quindi tutti devono lavorare per il bene della città Ricordo che gli alberghi sono, diciamo un po' è la categoria capofila del turismo perché ovviamente se gli alberghi sono pieni lavorano i bagnini, lavorano le guide turistiche lavorano i bus operator quindi lavorano i commercianti e quindi in questo momento è importantissimo che il nostro settore venga aiutato L'altro appello che facciamo ai politici è che non vengono dati finanziamenti a pioggia ma vengono destinati esclusivamente alle categorie in difficoltà Il Comune di Pesaro attraverso il Vice Sindaco Daniele Vimini ha messo in tavola progetti che prevedono investimenti a sostegno del comparto a cominciare dalla riqualificazione della zona di Levante animatamente richiesta dagli albergatori Altro tema caldo è stato la tassa di soggiorno Il 5% dei fondi derivati da questo tributo saranno investiti sulla promozione del territorio con una percentuale che sarà resa retroattiva dai ricavi del 2019 e confermata anche per i progetti del 2021 E' stata approvata in giunta la variante al piano regolatore che trasformerà 40.252 metri quadrati edificabili in aree verdi e agricole La delibera dovrà essere discussa in Consiglio Comunale e riguarderà strada della Romagna a Colombarone aree della statale adriatica Cattabrighe il parco del Cuneo Verde l'area produttiva di Via delle Regioni strada dei Guazzi a Santa Maria dell'Arzilla e strada a Sant'Egidio a Novilara A Palazzo Gradari è ufficialmente iniziato il corso di laurea triennale in sistemi industriali e dell'informazione dell'Università Politecnica delle Marche che riattiva appunto a Pesaro un corso di laurea L'Università di Urbino attraverso il rettore Vilberto Stocchi ha invece siglato ieri in prefettura un protocollo di intesa per la legalità volto a tutelare da infiltrazioni mafiose gli attuali 45 milioni di euro di appalti per investimenti facenti cappo all'Università domenica nella sala laurana di Pesaro della prefettura sarà inaugurata la seconda edizione di Arte Solidale una mostra di pittori, scultori e ceramisti che esporranno opere poi acquistabili attraverso un'asta benefica quest'anno abbiamo creato un bellissimo gruppo di lavoro ci sono dei nuovi artisti e dobbiamo ringraziarli tutti quanti perché ci hanno donato le loro splendide opere ad un prezzo di base d'asta irrisorio per Piattaforma Solidale quindi per uno scopo benefico e per aiutare la comunità sono tutti artisti della provincia di Pesaro famosi che fanno parte di questa bellissima famiglia che è diventata Piattaforma Solidale quindi lavorare insieme per aiutare il prossimo soprattutto persone che hanno bisogno realmente in un periodo come questo ci siamo adoperati per aiutare il prossimo come facevamo col Covid avevamo dei problemi quindi la mostra ci sarà fisicamente in Palazzo Laurana del 25 ottobre all'1 di novembre quindi le persone contingentate potranno entrare tranquillamente a vedere la mostra, le opere che sono in asta e ci sarà contemporaneamente questa novità di un'asta non fisica ma digitale dobbiamo ringraziare l'ingegnere luminari della Comis perché ci ha permesso di creare questa piattaforma c'è una base per creare l'asta online un piccolissimo ebay quindi con questo si va sul sito su piattaformasolidale.it e ci si può loggare si possono visionare fisicamente e poi comprare crediamo che questo sia un appuntamento estremamente importante perché mette insieme gli artisti con la solidarietà per cosa? per poi attivare dei progetti che puntano a dare un aiuto, un sollievo alle persone che hanno problematiche non solo disabili ma anche chi ha problemi temporanei e la solidarietà deve essere l'elemento portante di tutta l'iniziativa un esempio di questi progetti stiamo lavorando sulle usili le usili per le persone che hanno problematiche motorie per crearne di nuovi progettarne di nuovi o migliorare quelli esistenti perché servono a migliorare la qualità della vita un soggetto disabile una persona che ha temporaneamente delle problematiche se riesce a ritornare a vivere in mezzo alla gente con l'aiuto di alcuni usili migliora la propria qualità della vita e non rimane isolato e quindi si prevengono anche altre patologie che derivano dall'isolamento e dal rimanere fermi nella propria abitazione Ed ora arriviamo al consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni ricordatevi sempre il numero di whatsapp 370-366-7210 oggi parliamo di Novi Lara con un nostro telespettatore che ci ha inviato alcune foto che mostrano un certo stato di incuria delle mura storiche del borgo avviluppate dalle erbacce e dimenticate dai lavori di ordinaria manutenzione torna ad essere fruibile la galleria piccola del Furlo la struttura di epoca romana vicina a quella più grande e tuttora in uso realizzata dall'imperatore Vespasiano verrà riaperta grazie ad un ripristino realizzato in convenzione tra provincia Enel e comune di Fermignano continua invece la rassegna degli otto spettacoli in concorso della 73esima edizione del Festival Gade al Teatro Rossini questa sera alle ore 21 è in programma Amami quanto io tamo della compagnia Linea di Confine di Roma domani alla stessa ora andrà in scena la gabbia della compagnia i cattivi di cuore di Imperia ed ora andiamo a conoscere l'ultima fatica letteraria di Maurizio Marinucci giornalista, scrittore e allenatore di basket che abbiamo intervistato nasce da una storia vera ambientata tra gli anni 20 1920-1940 alle pendici della Maiella in Abruzzo che era Manico Terme però tutto sommato era una storia che mi piaceva perché mi permetteva di riflettere sugli aspetti della libertà dell'uomo in quali in questa epoca diciamo di tecnica dove siamo sempre più funzionali a un apparato in quali ambiti la nostra libertà si può esprimere ecco questi sono due personaggi protagonisti Dora e Giuseppe che lottano per potersi amare stare insieme vivere insieme e Dora viene reclusa per otto anni essendosi innamorata di un mezzadro del nonno quindi è una storia non originale se vogliamo però in qualche modo una di quelle che ha contribuito a permettere a noi oggi di amare chi vogliamo e decidere di stare con chi amiamo una cosa che diamo per scontato magari ma che scontato così non era all'inizio del secolo quindi non parliamo di tre secoli fa ma di 80-90 anni fa dove i matrimoni erano combinati e quindi anche la libertà individuale era costretta dalle famiglie che facevano dei contratti oggi bene o male forse dove la libertà ancora meno e non ce ne rendiamo conto la nostra libertà di poter amare è un ambito in cui viviamo la nostra vita nel modo più pieno possibile Ecco con queste parole diciamo che hai sintetizzato anche questo titolo particolare Lascia che sia l'amore Sì e non ho spoilerato poi il libro come succede spesso quando si parla di romanzi in effetti Lascia che sia l'amore che è una scelta dell'editore perché il titolo originario era Monte Amaro che è la cima più alta della Maiella dove si svolge l'azione che è una storia prettamente al femminile e Maiella è un'antica dea riferita alla madre Gea quindi alla terra femminile che dà alle donne abruzzesi una forza particolare che in questo libro viene fuori devo dire però Lascia che sia l'amore in qualche modo permette di individuare un ambito in modo abbastanza concreto e anche pragmatico da un certo punto di vista in cui la libertà dell'uomo si può esprimere e anche attraverso una lotta che è stata fatta nel passato Il libro si trova in tutte le librerie da dove non c'è si può ordinare perché è distribuito da messaggerie quindi è una casa di distribuzione importante oppure su tutti i siti online che vendono libri e in pochi giorni arriva E questa sera come sempre chiudiamo con alcune notizie riguardanti lo sport questa sera spazio a Little Service perché c'è una grande sorpresa torna in campo la squadra pesarese del calcio A5 domani giovedì 22 ottobre i pesaresi scenderanno in campo a Pescara per giocare contro la Color Max una partita spuntata dopo una serie di contatti fra i due club e l'intermediazione della divisione Pescara infatti non poteva giocare la partita prevista contro il Futsal Genova per casi di positività al covid fra i Liguri così come Little Service aveva rinviato il match con la Real San Giuseppe per altri casi di covid fra i campani Pescara ha così chiamato Pesaro proponendole di anticipare la partita prevista il 17 novembre Little Service ha accettato la divisione calcio a 5 ha fatto altrettanto e dunque domani si gioca la partita sarà trasmessa da Rai Sport alle ore 20 e 45 e c'è spazio anche per una notizia di basket oggi abbiamo intervistato il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che si prepara la trasferta di Roma dopo la controversa limitazione a soli 200 spettatori alla Vitri Frigo Arena al momento c'è la regione che sta lavorando per capire così per capire un decreto che è abbastanza interpretabile e vedere se tutti quanti in Italia tutte le regioni unificheranno questa capienza dei vari palazzetti chiaramente dipende da ognuno di noi di che struttura e credo che Pesaro abbia una delle migliori in assoluto prossima partita contro la Virtus Roma beh è una partita insidiosa perché Roma ha una buona pallacanestro ha 5 americani fisici dotati di buona tecnica e di grande fisicità stanno facendo un percorso discreto hanno vinto la prima in casa con una fortitudo che probabilmente in pochi se lo aspettavano e quindi è una partita che sarà da giocare al massimo delle nostre possibilità per cercare di portare a casa io credo comunque che abbiamo le possibilità Ed ora con molto piacere torniamo ad occuparci di Giacomo Lucchetti un pilota motociclistico pesarese che da anni coniuga le sue passioni in pista con l'amore per gli animali Lucchetti continua senza soste il suo tour a sostegno di canili e gattili italiani come possiamo vedere in questo prossimo servizio Ci troviamo a Pesaro in particolare tra i quartieri di Vismara e della Torraccia dove c'è un luogo molto particolare il casolare che vedete qui al mio fianco è infatti il cuore pulsante di un progetto di amore per gli animali che si irradia in tutta Italia amore soprattutto per i cani e i gatti cuore in corsa infatti il progetto portato avanti da anni dal pilota Giacomo Lucchetti tre volte campione nazionale della classe 250 che appunto continua in perterrito nelle sue missioni animaliste veicolando messaggi importanti contro l'abbandono degli animali contro la vivisezione e a supporto di canili e gattili Giacomo ci troviamo qui nel tuo campo base che è il luogo in cui effettui dei pit stop rapidi si ricaricano le pile si ricaricano le batterie e si riparte per una nuova missione un'altra è subito imminente si questo è il nostro campo base dove partono tutte le missioni ufficiali di cuore in corsa e proprio questi giorni saremo impegnati in una nuova missione in Umbria e nelle Marche precisamente a Perugia dove ci sono due rifugi altrettanti a Fabriano copriremo in pratica circa la distribuzione per circa 200 cagnolini ed oltre 100 mici che chiaramente si trovano in una situazione molto molto difficile un impegno che spazia dal supporto ai canili ma anche a messaggi importanti veicolati contro l'abbandono degli animali si in pratica noi da luglio 2019 siamo diventati il primo motoclub animalista d'Italia ci stiamo adoperando soprattutto contro questa tematica quindi contro l'abbandono degli animali ma come motoclub animalista stiamo portando avanti veramente diverse campagne di sensibilizzazione che vanno dalla lotta contro il traffico di cuccioli la caccia quindi sono diverse sicuramente le tematiche stiamo ricevendo un gradimento forte da parte delle istituzioni dell'opinione pubblica la cosa mi fa molto piacere perché io ci credo tantissimo nel progetto e speriamo di crescere sono 34 le missioni che hai effettuate alcuni luoghi molto particolari come accumuli amatrice luoghi appunto in cui gli animali rischiano ancor più di essere dimenticati sì diciamo che l'emergenza del terremoto appunto nelle zone di amatrice accumuli è stata una tragedia assoluta noi ci siamo adoperati fin da subito portando subito dei vivi organizzando subito una raccolta alimentare e alla prima missione sono seguiti addirittura altre quattro e in pratica appena arrivati io ho trovato veramente persone eccezionali in Animalisti Italiani Onlus l'associazione animalista che fin dall'inizio è stata presente proprio per aiutare la popolazione io dico sempre che aiutare gli animali vuol dire aiutare le persone anche perché in un momento così particolare aver portato degli aiuti alimentari a tutti gli animali ha fatto sì che la pesantezza a livello anche economico proprio per i proprietari di questi di questi esseri viventi con la coda divenisse un attimino più più leggera la tua è una carriera che vanta tre titoli in 250 diciamo che da questi successi sei passato comunque a un impegno altrettanto costante in questa missione che porta ad abbinare due cose che di per sé non sembrerebbero così parallele sì infatti l'originalità del progetto è aver posto le moto in aiuto di tutti gli animali bisognosi sono stati anni molto belli con la 250 il nostro programma sarà rientrare il prossimo anno nel 2021 nella Pirelli Cup nella National Trophy in una maniera inedita con una moto speciale unica al mondo e ci stiamo lavorando entro la fine di novembre dovremo definire il programma e chiaramente questo rientro coinciderà con la promozione di tutte le campagne di sensibilizzazione in base al periodo in cui si svolgeranno le gare quindi per dire a giugno luglio contro l'abbandono a settembre contro la caccia quindi sarà un impegno molto molto forte ma ripeto io ci credo tantissimo speriamo di crescere speriamo che il seguito da parte delle persone sia sempre maggiore perché gli animali come le persone necessitano comunque sia di cura di aiuto quindi ci mettiamo a disposizione tu sei l'attore protagonista di cuore in corsa però ci sono anche due attrici protagoniste una alla tua destra e una ai tuoi piedi sì diciamo che alla mia destra c'è la mia fida mottina da allenamento che è quella che chiaramente mi prepara appunto alle vere gare ufficiali invece qua in mezzo ai miei piedi c'è la mia compagna di vita perché la Juliet è diciamo è una trovatella divenuta veramente ormai inseparabile per me è una figlia che in pratica niente ci siamo incontrati nella missione la seconda in assoluta a Campobasso al Caniele Santo Stefano un'emergenza gelo incredibile drammatica davvero anche lì abbiamo preparato avevamo preparato questa raccolta alimentare dell'ultimo momento appena arrivato alla mattina del 12 gennaio 2017 appena stavo fermando il furgone la volontaria meravigliosa la Chiara la mia grande amica è passata appunto con questo fagotto nelle braccia e in pratica lì tira e molla me la sono portata a casa con l'obiettivo di farla adottare poi ciao insomma la storia ormai è nota e quindi lei ormai è diventata il vero simbolo di cuore in corsa in tutto quello che stiamo facendo e siamo arrivati all'ultima notizia adesso come sempre vi aggiorniamo sulla programmazione di Rossini TV per questa sera questa sera alle 21.15 vi faremo vedere un video dedicato all'orientamento all'istituto agrario in replica anche alle 22.30 e a seguire alle 21.30 GAD si parla appunto di questo grande festival e entriamo appunto a conoscerlo meglio con alcune indiscrezioni e allora ho detto davvero tutto tra pochissimo per voi il meteo noi ci rivediamo domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa buona serata grazie a tutti grazie a tutti